Chiara Negrini, finalmente torniamo in campo dopo due settimane di stop forzato, l'ultima partita contro le HF Volley Brosinone vinta meritatamente fra le mura del Palamondolce e adesso trasferta a Piacenza, partita non semplice, Piacenza ha vinto proprio domenica dopo un paio di sconfitte, come vedi questo incontro? Sicuramente come dici tu è una partita difficile, sappiamo anche che queste pause forzate non aiutano mai, nel senso che quando poi soprattutto una squadra come noi prende un buon ritmo come gli ultimi risultati non è mai positiva la pausa, però insomma credo che ci stiamo comunque allenando bene, abbiamo fatto due amichevoli con Forlì per cercare di mantenere comunque il pensiero della gara della partita e andiamo a Piacenza conoscendo il valore dell'avversario ma conoscendo anche che noi siamo una squadra rispetto all'inizio stagione in crescita e quindi insomma daremo il tutto possibile. Questa è la tua cosa più bella, che tu comunque punti molto sui valori della tua squadra, delle tue ragazze, siete ragazze molto motivate, molto desiderose comunque di fare bene, tutte le volte è sempre meglio, l'avete dimostrato nell'arco della fase di andata? Sì, sì, c'è una gran voglia di fare, nonostante a volte magari ci siano dei limiti fisici, tecnici, comunque c'è la costante e sempre questa volontà di fare delle belle partite, sono molto soddisfatta, lo dico tutte le interviste, sono molto contenta di questo gruppo e speriamo che in questo girone di ritorno riusciamo magari a toglierci qualche sassolino dalle scarpe che all'andata non siamo riusciti a fare. Certamente ci saranno delle partite comunque come contro Modena e contro Bergamo, fra le mura domestiche importanti, ma anche a Piacenza ci sarà un gruppo di fedelissimi che vi seguirà, quindi comunque il calore di Urbino lo potrete sentire? Il calore di Urbino lo sentiamo ad un avasto, figuriamoci se non lo sentiremo a Piacenza, è una costante la presenza dei fedelissimi, ringrazio, visto che mi dai l'occasione, ringrazio di nuovo le persone che vengono a sostenerci, diciamo che è il giocatore in più per questa squadra e quest'anno sento che questo legame è ancora più forte, magari dell'anno scorso, adesso le passate stagioni non ero presente, però ci aiutano molto. Benissimo Chiara, in bocca al lupo per sabato. E' più, ciao a tutti. Sofia Giombetti, il cucciolo della squadra, la marchigiana, più che marchigiana, quasi urbinata ed adozione oramai, è nata e cresciuta a Lucrezia, raccontami qualcosa che riguarda il tuo amore e il tuo desiderio di continuare a giocare a pallavulo. Beh, guarda, io innanzitutto volevo ringraziarvi per avermi dato questa possibilità perché comunque raccontarmi è per me un onore e mi rende veramente felice. Io ho cominciato da piccolissima, appunto a Lucrezia dove sono nata, ho fatto i mini-volley, under 14, fino agli under 18, poi dopo 14 anni sono stata chiamata nella rosa della prima squadra che allora faceva la serie B e quindi da lì ho fatto due anni di serie B, due DC perché poi venderono i diritti e poi sono stata chiamata con grande entusiasmo qua su a fare il secondo in Urbino. Io ricordo quando fu fatto il tuo nome e si parlava comunque di nomi altisonanti per ciò che riguarda il tuo ruolo, il ruolo di libero, che comunque non è un ruolo facile e non è semplice, soprattutto quando uno inizia a giocare a pallavolo perché il desiderio di buona parte delle giocatrici di pallavolo è di schiacciare la palla. Quando è avvenuta la decisione sul tuo ruolo? Beh, guarda, sicuramente la mia statura non ha aiutato tanto, cioè nel senso ha aiutato nella decisione di questo ruolo perché comunque sia a grandi livelli c'è bisogno comunque di una fisicità particolare, io non sono diciamo molto alta, quindi vediamo, diciamo che è stato un po' indirizzato dalla mia situazione fisica. Comunque sia, è vero, anche io avevo questo desiderio e ce l'ho proprio dentro la cattiveria e la tigna di magari attaccare un pallone, infatti d'estate quando mi trovo magari a giocare a beach volley, insomma la tigna ce l'ho, però purtroppo devo fare insomma questo, ma io sono felice di questo anche perché riesco comunque a tramutare questa tigna e riesco ad esprimermi anche facendo il libero. Infatti la grinta è una delle componenti fondamentali del tuo ruolo perché se tu non hai la voglia di attaccare, di aggredire la palla che sta per cadere non riesci comunque ad essere efficace. Esatto, però io questa tigna magari la metto e non faccio cadere il pallone. Benissimo, nella tua esperienza comunque tu sei classe 1993, quindi sei comunque giovane, questo è il terzo anno in Serie A, un allenatore che ti è rimasto impresso o con il quale ti piacerebbe, un allenatrice con la quale ti piacerebbe lavorare? Ora, beh, sicuramente l'allenatore che durante questi anni mi è rimasto più impresso e non è della Uno, nel senso che è colui che comunque mi ha aiutato e ha fatto magari il mio nome e mi ha aiutato ad arrivare, tra virgolette, fino a qui, da Antonio Rinaldi che adesso è a Vicenza. Un allenatore con cui mi è piaciuto tanto lavorare è stato Radugna, quello dell'anno scorso, anche se ammetto che è abbastanza duro, ma comunque sia il contesto della Uno, cioè verso una ragazza che comunque viene da una Serie C e il salto è veramente alto, anche se insomma il contesto era abbastanza difficile, mi ha aiutato tanto e mi ha indirizzato molto verso questo mondo che molte volte è un po' crudo. Quindi sì, Radugna. Benissimo. Per ciò che riguarda invece le tue compagne, nelle tue esperienze giovanili ma anche quella comunque che è l'esperienza della Serie A? Ma guarda, quello che ho imparato è che comunque sia magari in livelli più bassi, a livelli più bassi c'è più magari il concetto di squadra. Quando io arrivai qui l'anno scorso, la 19enne, il primo anno di A1 cerca subito l'amica e magari mi sono trovata un attimo in difficoltà perché qui stavano un po' tutte nel proprio ambito e non cercavano magari un'amica o una confidente come l'ho cercata io subito. Invece io un attimo, come hai detto tu prima, cucciola del gruppo, ho cercato subito dove appoggiarmi. Comunque sì, io sono stata veramente fortunata perché anche quest'anno abbiamo una squadra favolosa, siamo tanto unite e questa è veramente la nostra forza e ci ha portato anche a belle vittorie. Una giocatrice che ti piace molto, a prescindere dal tuo ruolo? Negrini, Chiara. Beh quindi è una cosa eccezionale poter giocare con lei? Assolutamente sì, come la mia mamma in campo, anche se l'anno scorso, veramente l'anno scorso è stato un anno abbastanza difficile, però a lei mi è rimasta proprio impressa. C'è grande donna, grande mamma, grande tutta, è proprio Chiara Negrini. Bene, allora Sofia, in bocca al lupo per il tuo futuro e oltre alla pallavolo cosa vedresti? Sì, ma sicuramente la cosa che mi dispiace di più è aver lasciato, lasciato, accantonato un attimo lo studio, però sicuramente negli anni prossimi, sicuramente il prossimo anno riprenderò con più costanza, sicuramente. Bene, allora in bocca al lupo per tutto ciò che ti si prospetta davanti. Crepi il lupo, grazie.